Un giovane tra i giovani in questa splendida giornata organizzata dall'AC. Sì dai, ormai i giovani non esistono più, ormai 18 anni si inizia a giocare già in campionati importanti come Serie B e Serie A. Sono contento di aver ricevuto questo premio e lo divido con i miei compagni di squadra del Vicenza. Che effetto ti fa vedere tanti ragazzi così attenti non a quello che succede dentro uno stadio ma in un contesto dove si cerca di dare al calcio un significato anche culturale? Sicuramente importante perché soprattutto a livello giovanile, a livello di genitori c'è un po' di esasperazione, bisogna lasciare tranquilli questi ragazzi che magari iniziano ad approcciarsi al calcio, divertirsi e poi qualche avverrà, verrà. Rivera parlava di fare anche una scuola di genitori? Sì, soprattutto questo credo sia il problema che ogni genitore crede di avere il campione in casa, invece un ragazzo deve stare tranquillo, giocare, poi se nel suo futuro potrà fare il calciatore professionistico, tanto di guadagnato, però all'inizio deve solo divertirsi. Un momento particolare per la vostra categoria, si parla anche di divisioni, di antagonismi e quant'altro. Come la vedi dal tuo punto di vista pur a confronto di magari un'esperienza che nel calcio professionistico non è così lunga in termini di anni come molti di tuoi colleghi? Sì, è un po' una critica che c'è anche a livello di questa società, ma per noi non cambia nulla, noi pensiamo solo a lavorare, ad allenarci e poi il resto resta fuori dal calcio. Alcuni calciatori hanno scelto di provare un'alternativa alla IC, ha senso, ha un significato o come la vedi? Sì, so di questa associazione, NC mi sembra, riguarda solo i calciatori di serie A, noi restiamo fedeli alla IC. Sì, so di questa associazione, NC mi sembra, riguarda solo i calciatori di serie A, noi restiamo